L'intervista del Punto, come vi avevo anticipato e promesso, non intervesterò soltanto politici, esponenti, cariche dello Stato, ma lui sì che è una vera istituzione del mondo della cultura, del teatro, del cinema, il grande Nicola Pignataro. Grazie, grazie Manila, quante belle parole, stanotte credo che non riuscirò a dormire. Senti Nicola, parleremo della tua straordinaria carriera, allora non si contano i successi che hai realizzato, il teatro, la televisione, il cinema, sarà un'intervista completamente dedicata a te, ti ho chiamato e ti ho detto faremo un'intervista soltanto per te. Io ti ringrazio moltissimo perché condividere le proprie emozioni, la propria vita sia con te che con tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano è anche per me un'emozione che non ti credi che gli attori hanno pure loro una sensibilità, quindi non basta solamente avere l'applauso del pubblico così a freddo, ma condividere le impressioni, tutto, che poi ricordare fa bene. No, poi dobbiamo ricordare che la mia carriera è iniziata proprio al teatro purgatorio, perché io ero poco più che un adolescente e tu sei stato colui che mi ha proprio dato il battesimo per entrare nel mondo dello spettacolo, quindi dopo un po' di anni mi vedi adesso alla guida di programmi di successo, sei un po' fiero di essere stato il mio pigmaglione. Ma certamente, come fiero un padre di un figlio o di una figlia che ha successo, così sono fiero io, che molti che sono passati dal teatro purgatorio hanno fatto una loro grande carriera e ne sono talmente tanti, ma tu sei uno delle migliori, cioè si shoot proprio a passi velocissimi. E allora con il mio Pippo Baudon, che è Nicola Pignataro, ora il regalo te lo faccio io perché voglio gratificare il tuo lavoro con la descrizione proprio di un servizio dei nostri giornalisti che parla della tua straordinaria carriera. Partiamo così. Un'icona della comicità barese, uno dei più grandi rappresentanti del teatro del capologo pugliese. Stiamo parlando di Nicola Pignataro, nato il 24 aprile del 1943, 79 anni, da compiere proprio in questi giorni. È nato a Bari dove cominciò a recitare per gioco all'età di 14 anni nella parrocchia del Redentore. Qualche anno più tardi cominciò la carriera d'attore con i suoi primi compensi. Nel 1975, all'età di 32 anni, con alcuni colleghi, decise di preparare nel Teatro Stanic la rappresentazione intitolata Un caffè antico di Vito Mauro Giovanni. Conobbe Mariolina De Fano, che entrò nella sua compagnia successivamente, fu direttore e attore principale del Teatro Purgatorio. Innumerevoli film e gli spettacoli teatrali che lo hanno visto protagonista. Uno dei primi fu Il Carabiniere, con la regia di Silvio Amadio, nel 1981 al cinema. L'abbiamo visto anche nella capagira di Alessandro Piva, nel 1999, ma soprattutto in Piripicchio L'Ultima Mossa, che lo vide protagonista nel 2010 sotto la regia di Vito Gius Potenza. Tantissimi gli spettacoli teatrali, con Vito De Fano, con l'amico Lino Spadaro, scomparso proprio qualche mese fa, e con l'indimenticata Mariolina De Fano. Da Numat fu usciuto da Vuceghi al libretto malasanitario, passando per il geometra Amarazzia e l'avviso di garanzia, Paneghi e Sale e tantissimi altri spettacoli, come Crisi, Patate e Cozze, Ultimo Tango a Iapigia. Nicola Pignataro ne ha scritti e ne ha interpretati tanti, ma la sua voglia di teatro non si esaurisce di certo qui. Il primo maggio, al Teatro Purgatorio, sarà protagonista di Storia Me, un racconto in cui si narrerà della storia di Bari e del Bari. Un uomo con la recitazione nel sangue, con tanti sipari da far aprire e chiudere con la scena finale e tanti applausi. Allora, caro maestro, la tua carriera è infinita. Ho un po' di soggezione a farti questa intervista, perché ci conosciamo veramente da oltre vent'anni. Eh appunto, dai. Da quando ho iniziato la mia carriera. Sciogli le catene, dai. Perché è vero che ora sono impegnato in politica, nel giornalismo, quello di inchiesta, però non posso dimenticare l'abbanspettacolo e la cultura che io ho intrapreso grazie a te, quando ero poco più che un adolescente. Sono stato fortunato anche io, dai. Allora, la tua carriera è veramente straordinaria. E soprattutto, Nicola, lasciamelo dire, il teatro. Il teatro che dopo veramente questi due anni di pandemia terribili ha sofferto tantissimo. E di fatto. Difatti sì, perché il teatro è quello che, diciamo, ha sofferto molto, perché noi abbiamo un contatto diretto con il pubblico. Quindi se non c'è il pubblico, se non sentiamo proprio la presenza, perché l'avvertiamo anche inconsciamente, la presenza del pubblico è la reazione. Quindi vedere anche il teatro con tre poltrone vuote, per chi ha fatto una carriera come la mia, che addirittura quando mettevamo in scena delle commedie negli anni d'oro, ma anche un po' dopo, quanta gente stava in teatro, tanta gente stava fuori che voleva entrare, non c'erano più posti. Quindi è stato un pochino un colpo. E quindi abbiamo sofferto. Come hanno sofferto anche gli spettatori, che non hanno potuto godere di questo spettacolo. Perché il teatro è vita, il cinema è più finzione, ma il teatro è la vita portata su un palcoscenico. Noi interpretiamo dei personaggi, ma siamo vivi. La gente che va al cinema, sì, vede uno spettacolo, ma è quasi non reale, è surreale. Guarda questa foto. Ecco qua, vedi qua. Questa è l'imitazione dei fratelli De Regge, che facevano Walter Chiari e Carlo Campanini, che noi vedevamo alla televisione in bianco e nero, e quindi ragazzini, avevo 12 anni, e vedendo questi due grandi artisti, salì proprio la voglia di diventare come loro. E questa scena è fatta in una parrocchia, in una parrocchia dove con l'amico Tonio Surian, che adesso è un grande funzionario dell'impresa elettrica in Germania, lui sta a Dortmund in Germania, con lui abbiamo cominciato a fare queste scenette qua. Ma non c'era il pubblico, c'erano i ragazzini dell'oratorio e il preto che diceva alla fine bravi, bravi. Senti Nicola, la tua carriera è veramente straordinaria, non lo dico per piangeria, ma insomma, guarda questa foto, questa foto ha dell'incredibile, qui ci catapultiamo proprio nella storia. Esatto, qui c'è Mariolina De Fano, la mitica, c'è Teodosio Baresi, purtroppo loro non ci sono più, e forse sentendo anche una sorta di vergogna che stiamo ancora qua, ci siamo io e Franco De Giglio. Senti, su Mariolina De Fano, lasciamelo proprio dire, ti sei anche un po' arrabbiato quando hai visto che hai stato dedicato soltanto una piccola parte del Teatro Piccini e avresti preferito anche una strada importante della città di Bari, perché Mariolina è un'altra grandissima artista col quale tu hai condiviso veramente 50 anni di carriera. Sì, in effetti, io non voglio fare polemiche, non voglio anche dare colpe a nessuno, né al sindaco, né all'assessore, però mi sono piccato un pochino quando io proposi una strada dedicata a Mariolina De Fano perché lei è il simbolo della baresità. Allora Bari deve qualche cosa. Ci abbiamo tante strade dedicate a luoghi che non servono più, che sono di un passato, che poi non sono dedicate neanche alla storia dell'Italia, via Cattaro, via Mogadiscio, via Fiume. E' una storia passata, e forse anche una brutta storia. Allora, dedicare una strada a Mariolina, io feci addirittura un gruppo su Facebook di una strada per Mariolina, si riempì di gente, ma purtroppo mi hanno detto che... Però a te hanno detto di no, ma siccome io, insomma, detto tra me e te, al massimo che ho un milione di telespettatori, siccome li conosco tutti, magari gli faccio una chiamata anch'io, gli dico al presidente Emiliano, al sindaco De Caro, all'assessore Ines Pierucci, che frequentano tutti la mia trasmissione, magari ascoltano il nostro appello, intitoliamo una strada per Mariolina De Fano, che se lo merita. Che non sarebbe un dono fatto a Mariolina De Fano, Mariolina De Fano purtroppo non c'è più, lei ci sta guardando dalla sua, sarebbe un dono fatto alla città di Bari, perché io quando nomino Mariolina, non occorre che neanche De Fano, Mariolina, tutti quanti, proprio fanno questo respiro qua, quindi perché lei è stata l'anima, è stata quella che insieme a me ha riscattato il dialetto barese, che prima di noi... Era visto come un tabù? Sì, addirittura veniva visto anche come qualcosa di non civile, perché le mamme rimproveravano i figli, non parlare l'indialetto, parlano l'indaliano, non sapevano parlare neanche loro l'italiano, e dicevano a noi di non parlare l'italiano. Questo è il trio che poi diventò famoso prima del trio della televisione. Qui stiamo nel 1978, quando eravamo un quartetto famosissimo, quando uno dei quattro se ne andò, rimanemmo noi tre, e facemmo qualcosa di meraviglioso, perché in meno di due mesi, io e quel signore là che si chiama Lino Spadaro, coadiuvati da Mariolina, ma il testo lo scrivemmo prima noi, poi Mariolina si beò, e ci mise qualcosa anche di suo, si chiamava Faele. Manila, noi nel 1978, io e Lino Spadaro, abbiamo già da allora fatto la prima grande protesta contro chi si opponeva diversamente, come si diceva... Va bene, eravate a favore di tutti coloro che si sentono diversi. Ah, bravo! Già nel 1978. Infatti quella camicia richiama proprio i colori LGBT, vediamo a non saperlo. Quindi sei uno molto avanti. Noi dicevamo che questa era la storia di una famiglia normale che aveva un figlio con tendenze gay, allora il padre, giustamente, e la mamma lo difendeva perché è la mamma, e da qui piano piano nasceva una storia meravigliosa con un finale positivo già nel 1978. Che cosa ti manca di più di Mariolina De Fano? La compagnia, mi manca lei, mi manca la sua esistenza. Io sono stato il primo a metterla sul palcoscenico e forse l'ultimo a curarla nell'ultima fase della sua vita perché lei non lavorava più, gli fece fare l'ultimo spettacolo della sua vita. Io e Pino di Modugno e lei al Teatro Team facciamo uno spettacolo e dove lei già non ce la faceva quasi più, infatti facciamo le prove. L'ultimo spettacolo fu quello e dopo non ha fatto più niente. Le barzellette fatte con Modugno erano tutte precedenti. registrata precedentemente. Quindi l'ultimo spettacolo lo ha fatto con me e purtroppo dopo parecchi anni io l'andavo a cercare, mi chiamava alle tre di notte. Però sono Mariolina, ma Mariolina a che sora? E non poteva dormire. E non poteva dormire anche a me. E quindi ci passavamo... Vi legava una grande amicizia. Passavamo mezz'ora, tre quarti d'ora a dire cose. Pur di ricevere la tua compagnia. Esatto. Senti, te lo ricordi? Questo momento era un momento natalizio. Sì, e quindi non stiamo neanche facendo uno spettacolo. Stiamo in un posto, non so che cos'è, dal tavolo, sembra che sia un ristorante o qualcosa. Andavamo... Ma io credo che questa sia all'estero. Questo credo che sia uno spettacolo fatto all'estero. Perché io e lei abbiamo fatto spettacoli in Belgio, in Lussemburgo, in Germania... Ecco, a proposito di questo, cioè tu, oltre ad essere un attore affermato a livello locale, sei molto apprezzato in tutto il mondo. Eh, perché forse sono bravo, ce ne so. No, perché ho dato molta importanza agli italiani all'estero. Io non mi sono fermato qua. Io cominciai, grazie anche, devo dire la verità, alla regione Puglia, che aveva un assessorato all'emigrazione. E allora c'era anche un giornale che si faceva Puglia Emigrazione, si chiamava, diretto da un barese, Angelo... Che ti arriva proprio scelto come testimonia di questo progetto. Mi chiamò, perché per andare a portare il... la pugliesità e la barisità nel mondo? Bisogna andare a dare il dialetto, perché tutti gli italiani che erano emigrati con i primi flussi migratori, avevano dimenticato l'italiano, avevano imparato un poco la lingua del paese che li aveva ospitato, ma non avevano dimenticato l'italiano. Anche se lo mischiavano un poco con la lingua, quando andammo poi in America, c'era un italiano, ciao, allora, sono asciutto a casa, because, who can't, quindi questo è il dialetto inglese mischiato così, e quindi nasceva proprio un intimo. E io e Mariolina, siamo andati nelle miniere di carbone del Belgio, là dove ci fu il danno, la tragedia di Marsinelle, scendemmo 800 metri in profondità, lei non venne che aveva paura, scesi io, De Giglio, Franco De Giglio e Teodosio Baresi, e andammo a dare allegria ai lavoratori italiani che col piccone zappavano il carbone, e intonammo la famosa canzone a Bachelard Marine, se venne un pesce, senti Manila, quelli invece di ridere e cantare insieme a noi, si misero a piangere, a sentire una canzone che li faceva ricordare Bari, e alla fine c'è anche tutto qua. Senti Nicola, tu sai quanto io ti sostengo anche nelle tue battaglie, il Purgatorio non è solo la tua seconda casa, ma è la seconda casa di tanti baresi e di tanti pugliesi, mi sono molto arrabbiata quando ho visto quella vicenda che hanno tentato di toglierti via il Purgatorio. Beh, togliermi, non è che non volevano togliermi, per l'amor di Dio, era che era cambiata la legge e bisognava riadeguare il teatro a quel che era la nuova legge. Per fare questo abbiamo dovuto chiudere per due anni il Purgatorio e fare con i soldi nostri, perché noi non abbiamo avuto, per il rifacimento del teatro Purgatorio, neanche un centesimo da nessuno. Abbiamo avuto più, più adesso che c'è stato il Covid, di ristori sopra la partita IV, quattro soldi, ma neanche quei quattro soldi abbiamo avuto, perché dicevano che non c'era il capitolo per fare questo. e quindi abbiamo dovuto stare due anni e mezzo chiusi, rifacendo sacrifici per ricostruire il teatro, per mettere le poltrone a posto. Adesso il teatro rimarrà con te sempre. Quella è una statua napoletana, di ceramica napoletana, sono quelli che fanno entrare gli spettatori nel teatro, le tarantelle si chiamano, uno di qua e uno di là, dall'altra parte che fa entrare gli spettatori dentro. Nicola, una carriera lunghissima, fatta principalmente di teatro, ma anche di televisione e anche di cinema. Come è cambiato il mondo dello spettacolo, secondo Nicola Pignataro, rispetto ad oggi? Il mondo dello spettacolo è cambiato come il fiume che va avanti, cambia, nessuno lo può fermare, solo che ognuno poi vive la sua avventura. Noi avevamo avuto un grande successo nei teatri di Puglia, di Basilicata, di Calabria e fino in Sicilia. Arrivamo a Telecatania e quindi facemmo dei grandi spettacoli. Quindi cominciò ad essere interessante il nostro rapporto. Mettemmo su una cometa che si chiamava Uscar Parigi de Zeus e al teatro, quello che oggi si chiama anche cinema, si chiamava Lucciola, un giorno di Natale, un periodo di Natale, non aveva pellicole da mandare in proiezione, perché non avevano soldi per pagare i produttori. Allora venne Gino Arricol, l'impresario nostro, disse che lì vogliono una compagnia, però dovete fare un qualche cosa e ci mandò in questo cinema. Mettemmo su questa, riprendemmo questo Uscar Parigi de Zeus e la mettemmo all'anchicino. In tutta Italia, velocemente te lo dico, c'è un giornale, si chiamava il giornale dello spettacolo, che pubblicava gli incassi di tutti i capologhi di provincia, cioè di regione, che stavano in Italia. Allora, tutta l'Italia aveva al primo posto Mario Merlo con Zappatore, solo la Puglia aveva al primo posto Uscar Parigi de Zeus. Nicola Fignataro. Nicola Fignataro, erano i capologhi di provincia. Allora, si sospettirono i produttori. Ma com'è possibile? Allora chiamarono subito Oliviero Pinto, zio di Ferdinando Pinto, quel del produttore, che faceva il distributore, diceva, ci sono chi sei dubbi. Chi è? Allora, ci chiamarono a Roma, ci chiamarono a Roma e ci propostero questo film. Senti, c'è un film molto carino dove abbiamo avuto dei ruoli proprio per voi, abbiamo visto tutto. Qui sono gli attori, ci distrano i nomi proprio di attori quasi principianti. Massimo Ranieri, Enrico Maria Salerno, Fabio Testi. Noi ogni volta che c'erano un nome di kids scafuamo da così. Perché erano dei nomi importanti all'epoca, in quel momento. Lo rimangono ancora, ma in quel momento erano dei nomi pazzeschi. Il Carabiniere, per la regia di Silvia, ma io non ve l'ho detto perché ce l'avevate qui. Io c'ho tutto. Enrico Maria Salerno, Fabio Testi, Mariolina, io, Silvio Spacesi, Valeria Valeri, grandissimi attori, e Massimo Ranieri. Insomma, poi ci distrano questo film e ci dissero quanto ci dovevano dare di paga. Senti, noi, quando ci distrano la cifra, ci vuole quasi un colpo, cioè ci dissero una cifra che valeva un anno di teatro che noi facevamo a Bari. Allora ci rimangeremo sopra la seggia. Ma è vero. Dove devo firmare subito. Tornammo a Bari e Mariolina, ci fermammo a sei o sette autogrill per festeggiare. Per festeggiare. L'abbero lì con un caffè. Che momenti meravigliosi. E poi scusa, dopo quel primo vennero altri tre famosi, uno con Carmelo Zappulla, uno con Nino D'Angelo e poi tantissimi altri. Fino ad oggi ne ho fatti 26. Beh, insomma, commentare la tua carriera è davvero bellissimo quest'oggi perché insomma il teatro, abbiamo detto la televisione, anche tante fiction. Mi stai facendo venire tutta la vita. E beh, è certo. Anche la televisione non possiamo dimenticare tante fiction. non c'è da dirti. E beh, certo. E poi il cinema. Senti, però non possiamo non festeggiare i tuoi 57 anni con Rita. Eeeh, ma scalfone, delinquente. Oggi sì, 21 aprile, Natale di Roma del 1965, io e Rita, romana di Roma, figlia di un direttore di cinema e teatro, più in Snow Peak, con volammo a giuste nozze, come si dice, nella chiesa del Redentore a Bar. E' una storia, l'ho scritto sul libro Guardami Rita, non so se... Certo che lo so, ma io voglio condibiterlo con i telespettatori. allora faccio veloce veloce. Io sono bravino a fare dei disegni, facevo le caricature, qui sono bravo proprio a fare i volti, però feci un volto di una donna bionda con gli occhi chiari, proprio che sembrava una fotografia. E così la facevo talmente tante volte che me la facevo a me è morto proprio sul diario, della scuola, sulla gazzetta, facevo sempre questo volto, facevo mia madre, chi è questo? E' la città a me, ma non esisteva, è la città a me, e gli anni passavano, la città a me. A quell'epoca io per fare le scuole superiori, perché mio padre era povero e noi avevamo cinque figli, ero costretto a pagarmi i libri perché mio padre non li aveva per studiare. E quindi inventavi questi disegni? No! Lavoravo, i disegni non me li pagava nessuno. Era solo una tua passione? Allora, d'estate facevo il bagnino su una spiaggia di San Cataldo ed inverno andavo a scuola. Stavo su questa spiaggia, un giorno, aprì tutte le sedia sdraia, aprì tutti gli ombrelloni ed entrarono tre ragazze tra le tante persone. Una di queste tre era il mio disegno, identico. di cibi Cristo mio. Allora, esiste. Questa è. Manila, mi avvicinai. Prendesti quel disegno e glielo portasti? No! No! Mi avvicinai a lei e dissi, le feci la dichiarazione d'amore più stupida e cretina che esiste ma che funzionò alla lunga. Mi avvicinai e dissi signorina, mi tratti bene perché io sarò suo marito. E così è stato. Lei mi guardò e se ne andò perché era di famiglia buona. Importante. Il padre, direttore di cinema, di teatro a Roma, era romano. Insomma, cominciai a farle una corte così spietata, piano piano, poi con i giochi da spiaggia allo scavo del pollo, piano 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 e ci nacque una certa simpatia, amicizia, finché dopo 35 giorni successe un fatto. venne la pioggia di luglio, un'acquazzone, tutti scapparono via e la bloccai all'ingresso. E gli hai dato un bacio? No! Perché se no ti avrebbe mollato un ceffone. Esatto. Allora, lei disse fammi passare e tu dimmi sì. Dai, fammi passare e dimmi sì. Ma sta piovendo? Non vedo niente. Alla fine non ne potete... E va bene, sì! E quindi? Che feci io? Beh, l'hai baciata, spero. No! Aia! Che hai fatto? La lasciai là per andare a casa! Eh, allora sei proprio uno stronzo! No! No! Perché mi vestivo, mettiamo la gravata e mi presentai alla casa! Direttamente? Direttamente! Che stai facendo? E ora siamo fidanzati, ma mamma non sa niente! Mi accompagnò giù, dopo tre mesi riuscì ad avere il permesso di entrare in casa sua, ci siamo sposati dopo quattro anni e adesso sono 57 anni di matrimonio, cioè praticamente siamo insieme da 61 anni. Lei si trasferì, rimaste, cioè venne da Roma, era già venuta con qualcuno dei parenti, ma non si chiude a bar! Si è innamorata di te e di tutto quello che gli hai regalato. Senti, Nicola, come è cambiato proprio l'amore rispetto ai giovani di oggi? Totalmente! Totalmente, perché noi a Bari gira una barzelletta quasi, ma è un modo di dire antipaticissimo, che dice sono sposati, prima di venire il viaggio di noi sono sparte tutti. Quindi, e di fatti, adesso i matrimoni divisi, i divorzi sono all'ordine del giorno. Noi siamo ancora di una generazione che quando giurava davanti a Dio, davanti al prete o anche davanti a se stessi di vivere la propria vita con una persona, sia la donna che l'uomo, al 90%, 95% arrivavano alla fine. Adesso si sono invertite le proporzioni. Il 95% divorziano e a Xi il 5% c'è romanzo. Allora, parliamo di teatro perché siamo in promozione in questo momento della trasmissione perché è proprio doveroso parlare del tuo ritorno a maggio perché il teatro purgatorio abbiamo detto prima è la tua seconda casa ma anche la mia ma anche quella di tanti pugliesi e baresi. Certo, certo. Allora, ci vuoi raccontare in antiprima questo nuovo spettacolo? No, non è un nuovo spettacolo è un'idea che è venuta a Max Boccasile a Michele Salomone a me a tutte e tre che salutiamo che salutiamo senz'altro e bisogna essere originali molte volte perché nel mondo dello spettacolo l'originalità paga tant'è perché io ai miei attori dico sempre non imitante perché molti imitano altri attori non imitate perché imitando sarete sempre mediocri dovete inventare uno stile inventando lo stile come l'hai inventato tu è un successo garantito ecco quindi noi vogliamo fare delle cose nuove quindi che cosa faremo? Allora, ci abbiamo un provocatore che è Max Boccasile e due che raccontano Bari e la Bari io racconterò Bari la città la storia di Bari molti non sanno neanche chi sono i personaggi a cui ci sono state dedicate le vie di Bari ma che non vogliono dedicare manca la via Mariolini Mariolini si dedicano a Mariolini Mariolini chi è? Mariolini deve andare a sapere tutti ma nessuno sa chi era Calefati chi era Labate Jim chi era Roberto Dabbari chi era Andrea Dabbari chi era Argiro uno su cento lo sa se non forse anche meno io racconterò queste storie che cosa è successo a Bari nell'anno in cui un calciatore del Bari ha segnato un gol importante che racconterà Michele Salomone o quando il giorno in cui è stata fondata la squadra del Bari il giorno in cui Bari è passato dalla Serie B alla Serie A quel giorno dove è successo qualcosa io racconterò che cosa è successo a Bari nel posto in cui si sono ritrovati i tifosi in che via in via vabbè via Eletroferra Mosca la conoscono tutti però in via Cairoli non si aprono nessuno chi è Cairoli beh il tuo successo è stato sempre proprio quello di raccontare la barecità che nessuno aveva il coraggio di farlo tu l'hai sempre fatto in maniera come dire proprio reale hai riportato esattamente quello che è la cultura barese e a proposito di questo facciamo un passo indietro nel famoso 1999 quando tu al fianco di Alessandro Piva hai prestato la tua partecipazione per un successo che è stato pluripremiato in tantissimi festival in giro per il mondo che è la capa gira che di Baresita mi ha raccontato proprio una chiara lettura beh anche un po' di più ho fatto perché ho fatto quel che ho fatto lui mi propose di fare il ruolo e io lo accettai immediatamente e fu bravissimo come regista meraviglioso per l'intuizione che ebbe di fare il dialetto barese puro quando era stato inquinato il dialetto barese dai vari lino banfi che dicevano beri cose e l'altro che quel film quasi per la totalità è stato scritto in un locale di mia proprietà un pub che sta a bar che si chiama Barbon Street Andrea Piva era un cliente del bar che frequentava questo tuo locale e su quel tavolino ha scritto il copione della capa gira la sceneggiatura della capa gira io lo guardavo e ci stava piano per forse fu per questo che lui mi segnalò al fratello oppure il fratello già mi conosceva Alessandro e quindi entrai in quel cast e il fatto che il dialetto barese fu tradotto in italiano fu la chiave vincente ecco un'altra novità perché dicemmo noi scusa ma i film cinesi giapponesi li traducono in linea in lingua italiana perché non il barese vero e qui successe una cosa meravigliosa quando andammo a Berlino e tutti quanti ci guardavano al festival di Berlino all'orso d'oro che è il secondo festival del mondo dopo gli Oscar americani e stava mica gente così stava Vin Vendors con Milion Dollars Hotel stava George Clooney con The Three Kings stava Leonardo Di Caprio con Nandefilm e lui con la capa gira tutti i giornalisti tutti dietro a noi ci voleva intervistare e qui dall'albergo faceva ma chi che caccia e qui successe un fatto che venne questo Tonio Surian l'hai visto lui sta in Germania a Dortmund venne a Berlino venne a Berlino a vedere la prima della capa gira a un certo punto lo sento di ridere che stava diceva non potevo dire quando finì il film mi dice Tonio ma perché voi avete detto Le Murt de Mamet no Le Murt d'Attend e quelli hanno tradotto sotto in tedesco i defunti di tuo padre che non c'entrava nulla perché Le Murt d'Attend è una frase idiomatica che usiamo nel nostro dialetto esatto i defunti di tuo padre con i defunti di tuo padre iniziò a ridere senza sosta e risse tranquillamente senti Nicola voglio chiedere alla regia se mi mandano una foto di te da solo vediamo se nel repertorio ho questa sorpresa vediamo una foto di Nicola Pignataro adesso arriva vediamo una oh allora questa foto di te innanzitutto devo ringraziare la mia e la nostra autrice Maria Rosaria Coppola che fa un lavoro straordinario nella selezione di queste foto e di testi perché Maria Rosaria è incredibile questa è una commedia meravigliosa questo è merito merito tuo ma a merito di Maria Rosaria per avermi trovato tutto questo materiale quindi la volevo ringraziare e ne approfitto io non te l'avrei portata e lei va a scovare ovunque non so come fa ma devo capire i segreti e allora adesso tu mi dici dov'eri qua chi eri questo sto al teatro purgatorio questa è la commedia amore a terza vista tornando indietro oggi l'amore a prima vista non funziona più perché quando si sposa la prima vista come ho fatto io i matrimoni di adesso crollano qui bisogna neanche la seconda vista un matrimonio si fa quando uno è ponderato quando il rapporto è capito da tutte e due ed infatti questo amore a terza vista è una storia meravigliosa di una coppia che ha un matrimonio che sta per crollare tant'è perché loro si dividono perché hanno due figli moderni chiuso tu io che faccio il computer io che faccio il e il padre li vuole riportare sulla retta via di camminare come dice lui la madre come al solito li lascia andare alla fine il padre sbatte la porta e si andava lui torna dopo due anni perché c'è uno scienziato americano che ha inventato uno stile per far riaccoppiare le coppie divise e quindi dice l'americano che devi entrare nel mondo dei giovani devi parlare come loro devi vestire come loro solo così potrai capire il loro mondo quando lui capisce alla fine del primo atto si presenta così nel secondo atto ai figli che devi andare a vedere il concerto di Vasco Rossi allo stadio e andare così Nicola con questa foto trovata negli archivi della tua carriera così piena di colori così come la tua cammice che hai addosso straordinaria anzi te la rubo per una puntata io voglio sempre vederti così con questo sorriso indelebile perché fai parte del mio cuore ma anche del cuore di molti spettatori tu mi stai tirando fuori tutta la vita mia ma mica finisce qua anche se ho delle campagne da andare a pagare ma noi continuiamo perché quando vuoi qui al punto sei benvenuto e continuiamo questo viaggio perché guarda ho tante di quelle cose quindi non mettiamo il punto non mettiamo il punto mettiamo una virgola e torniamo ancora con Nicola Pignataro promesso? sì allora scrivi continua continua va bene lo faccio grazie davvero già hai volato il tempo hai volato il tempo ti voglio bene un saluto a te e agli spettatori grande grande Nicola Pignataro nel mio cuore e nel cuore di tutti i telespettatori di Antenna Sud grazie